Un saluto a voi cari amici, fuori sta nevicando questo primo di marzo, io ho deciso di farmi un bel risotto agli asparagi con della salsina di alici fatte rigorosamente dalla mamma, poi un po' di peperoncino e tutto con del parmigiano da mantecare nella parte finale. Vi assicuro che è veramente un piatto che già sta andando alle mie amici. Buona sera! Grazie a tutti!